... dal maestro Pietro Dore. Iniziamo subito con un ringraziamento e ringraziamo l'assessorato alla poltura del comune di Alguero per l'uso gratuito di queste sedie che vi accolgono e delle pedane e i proprietari e i titolari del Caffè dei Pazzi per la collaborazione logistica e per la disponibilità. Buonasera, Alguero è sempre stata una città amante della musica di qualsiasi genere ma è stata messa in risalto la preferenza per la musica bandistica forse perché quando suona la banda, la banda insomma è per tutti sia in circostanze allegre dunque che in circostanze meno allegre o per funzioni religiose da documenti e testimonianze augurari sia la prima istituzione bandistica il 26 maggio del 1862 chiamata Banda Civica di Alguero cambierà appunto nel corso degli anni il nome e vedremo insieme come insomma si è chiamata la banda nel corso dei vari anni dalla sua istituzione fino ad oggi questo lo vedremo tutto nell'arco appunto della nostra serata quindi possiamo dare inizio al nostro spettacolo nuovamente salutando il pubblico ringraziando nuovamente l'assessorato a cultura e il bar e il caffè dei pazzi grazie, grazie tante ma soprattutto grazie al pubblico che come sempre è numeroso e che segue sempre con grandissimo interesse la banda musicale che è composta come sappiamo da ragazzi giovanissimi fino ad arrivare a quelli un po' più diversamente giovani chiamiamoli così grazie ma soprattutto grazie a voi iniziamo il concerto con Sessibon di Henri Vetti buon ascolto grazie a voi 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 grazie a voi